ciao a tutti le belle giornate stanno finalmente arrivando come vi sarete sicuramente accorti e non so voi ma noi qui dal centro visite del parco del conero cominciamo a scalpitare abbiamo una gran voglia di uscire per fare una delle nostre belle passeggiate lungo i sentieri del parco naturalmente in questo momento storico la cosa più importante è la nostra salute quindi siamo consapevoli che dovremo tenerci questa voglia chiusa nel cassetto ancora per un pochino però ci siamo detti ma perché non condividere con voi un bellissimo viaggio virtuale in mezzo alla natura che ci offre il monte conero in questa stagione allora a partire dal 25 aprile seguitici sui nostri canali social facebook e instagram vi terremo compagnia con una serie di appuntamenti in cui vi racconteremo uno dopo l'altro i 18 sentieri che si intrecciano tra i boschi del monte conero uno dopo l'altro conosceremo meglio il loro percorso il luogo di partenza i punti panoramici e naturalmente ogni volta scopriremo anche molte curiosità sulla fauna e sulla flora che vivono nel parco pronti allora ci sentiamo sabato 25 aprile sia sulla nostra pagina facebook centro visite parco del conero che sul nostro profilo instagram centro visite conero con la prima puntata della nostra rubrica esplorando il conero dal divano di casa non mancate dunque